questo qua e questo oh buongiorno oh buongiorno signora prego ha bisogno? si senta può consigliarmi un buon cellulare? un buon cellulare come qua signora non è quel cellulare che sta bene anzi ora proprio l'ho messo a posto ora ti faccio vedere questo cellulare guarda quando è bene proprio la linea è ben sottile pensi che questo cellulare ce l'ha pure mia moglie ah e sta a dirmi quanta memoria? mia moglie un mostro c'hanno un sacco di memoria un elefante pensati tu che ci ricorda quando mi comprò nel 1978 quando eravamo fidanzati 12 paio di mutanti 12 paio di calzini e 12 paio di canottini capisci mia moglie è una cosa incredibile c'era pure lei questo veramente dicevo il cellulare si butta il cervello capito e mi rimane impresso capito allora la memoria di questo cellulare è buonissimo però sicuro che è buonissimo cioè se il caso non si rompe lo comprate? ma insomma fiora! grazie a tutti